Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre vi posso fare benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dal pacco postale come vedete ho posizionato un bel pacco da aprire insieme sulla solita postazione direi di non perdere altro tempo, andiamo subito ad aprile, il nostro fedelissimo Logan è tornato troverete tutto quello che c'è all'interno del pacco ovviamente sul mio sito Arashop, nel link qui sotto in descrizione come sempre, ma bando alle ciance, andiamo a vedere cosa si nasconde all'interno sempre novità, sempre novità interessanti qui sul mio canale allora vediamo un po' quali chicche ci ha portato il nostro fornitore vedo già un protagonista molto interessante ragazzi eccolo qua, voi non vedete niente, no, l'inquadratura che ho sull'orologio me lo conferma vi spoiler, vediamo se riesco a spoilerarvi un attimo ecco qua l'interno del pacco ebbene si ragazzi, è arrivato finalmente Scorpion direttamente dalla serie animata di Spider-Man ragazzi, figata, allucinante questa figure con la coda come vedete che ha i fori perché all'interno c'è il filo metallico per posarla ragazzi, bomba assoluta, bomba atomica continuando ancora, vabbè, togliamo un po' queste copie di Scorpion di cui molte sono prenotate purtroppo in realtà perché avrei voluto prenderne molte di più poi attenzione, attenzione abbiamo un po' di copie di Spider-Man che vi avevo promesso che sarebbero arrivate adesso sono arrivate, sono subito disponibili per essere acquistati sul mio sito anche queste praticamente quasi tutte prenotate sono rimaste veramente pochissime sulle dita di una mano ancora ragazzi, oh che abbiamo questo fighissimo Redwood direttamente da Arkham Knight guardatelo che figata con gli effetti energetici molto particolari mi piace un sacco lo stile di questo Redwood l'ho sempre detto, mi è sempre piaciuto e ancora ragazzi, attenzione perché qui abbiamo una chicca assurda ovvero lo Spider-Man giapponese eccolo qua, il cosiddetto Spider-Man eccolo qua, fighissimo, sempre per la linea Marvel Legends con il suo bracciale bellissimo, scavando ancora qui non dovrebbe esserci più nulla ma abbiamo un bel pacco nel pacco che andremo a spacchettare ovviamente adesso vediamo un po' se ci sono altre novità oppure sono magari ancora copie delle stesse figure chissà, chissà, vediamo vediamo, lo scopriremo solo vivendo sono copie di Scorpion ragazzi copie di Scorpion, lo faccio vedere eccolo qua, eccolo qua ne ho ordinate un pochino però le avete scoppiate quasi tutte essendo una figure veramente attisissima è fatta veramente veramente bene io adoro questo personaggio poi questo verde sgargiante veramente fighissimo bene ragazzi l'unboxing di oggi è abbastanza veloce in realtà finisce qui però ci sono arrivate diciamo un po' di novità molto interessanti le metterò chiaramente sul sito Arashoplin qui sotto come sempre io vi ringrazio come sempre per la visione ci vediamo domani con una nuova recensione credo proprio recensirò se è la meno che non vogliate che recensisca prima una di queste figure lasciatemi un commento qui sotto per farmelo sapere io li leggo tutti come sapete niente ragazzi io vi ringrazio come sempre per la visione ciao Dara ecco la visione da sempre grazie a tutti